Musica Bentrovati a Viveresnella, la nostra trasmissione a cura dei centri Viveresnella Medical. Come sempre non può mancare, ormai la conoscete tutti, la direttrice è Lorena Marseglia. Buonasera Lorena, bentornata. E un graditissimo ritorno anche quello della testimonial di oggi, che è quello della signora Giuseppina Viola. Buonasera, bentrovata anche a lei. Dunque lo sappiamo, lo ripetiamo ormai da tempo. Viveresnella utilizza un metodo che è, diciamo, sicuramente Lorena possiamo dirlo, il migliore presente attualmente in Italia perché, lo ripetiamo sempre, non si avvale di nessun tipo di beverone particolare, ma semplicemente, nessun farmaco, ma semplicemente si avvale di quello che è un po' la novità, diciamo, che è lo studio metabolico dei cibi che ormai voi applicate da tanto tempo, Lorena. Partiamo così? Da vent'anni direi. Siamo nati nel 1999, il dottor Ramaciotti ha lavorato all'Istituto Dietologico Italiano per tantissimi anni. All'inizio era il classico dietologo, poi negli anni ha capito che la dieta ipocalorica spesso fallisce, perché la fai per un po', ma poi quando la lasci ringrassi più di prima. E negli anni ha studiato, è stato molte volte anche a Mediaset, insomma era davvero molto famoso nel suo settore, e ha capito che l'asse stomaco, intestino e cervello è la base per poter stare bene in salute e non è l'unico ormai a dirlo. Vent'anni fa l'intestino veniva considerato un organo inutile, oggi invece è davvero uno dei primari organi dell'essere umano e quando sta bene l'intestino sta bene tutto il nostro secondo cervello, ma davvero. Lui partiva ad insegnarci che soprattutto se la testa della persona ha un disturbo, ha un dispiacere, spesso l'obesità nasconde gravissimi dispiaceri familiari, dove una persona da qualche parte si deve sfogare. Lo studio metabolico dei cibi è composto dove le mie nutrizioniste per mezz'ora fanno un lavoro di diet coach e l'altra mezz'ora guardano il tuo quaderno alimentare e studiano l'interazione e la biologia degli alimenti. Perché io posso essere bravissima, fare la fame, la povertà e la carestia come ogni tanto io dico, eppure mi gonfio, soprattutto se sto attraversando un momento psicologico grave dove produco maggior cortisolo, il cortisolo è un ormone che richiama acqua, e io mi gonfio, più mi gonfio più sclero e più sclero e più cosa succede? Mi sfogo nel cibo. È un circolo vizioso che se vado dagli sciacalli del dimagrimento, che oramai è risaputo che io ce l'ho con il Vanna Marchi del dimagrimento, che è sempre lì ad insultare la donna e la mette davanti allo specchio e le dice ma non ti fai schifo da sola? E voglio far capire alle persone che quando andiamo da questi soggetti andiamo ad autosuicidarci, perché io che sono obesa, che vorrei dimagrire, perché mio marito magari mi ha tradito, perché, che ne so, chissà quale dolore ho, sia perché vedo il mio corpo che è diventato una palla, sia perché io di salute non sto bene, sono un soggetto fragile, altamente psicolabile, ok? Se vado davanti a certi sciacalli, questi sciacalli che cosa faranno? Mettono il coltello nella piaga e finiscono di ucciderti. Ovvio che poi senti qualcuno che è dimagrito mangiando le sette bistecche alla mattina, la panna montato, addirittura ha avuto il coraggio di dire che se mangi la frutta ti viene il tumore, secondo me Veronesi nella bara ha fatto 3-4 giri, ma 3-4 giri li ha fatti, eh? Eppure addirittura adesso va a fare il grande fratello, cioè questa comunicazione così malatta, così contorta, dove si gioca addirittura sulla salute delle persone, ma addirittura poi lui mette le foto che è andato in tribunale e ha vinto, perché essendo un farmacista vince sui giochetti di quando non sei medico e come tale non rientri nell'obbligo dell'ordine dei medici ed essendo un farmacista tira fuori di quelle porcherie, schifezze e di tutto e di più e poi viene anche premiato, va addirittura il grande fratello. La persona malata che cosa pensa? Ah ma se questo va al grande fratello vuol dire che allora la sua alimentazione funziona. Ma se mangi sette bistecche alla mattina, poi c'è la mattina che ti chiama e ti dice adesso mangi la panna montata, l'altra mattina ti dice mangi la cipolla, non dice quanti dei miei pazienti sono finiti in ospedali per attacchi ai reni o alcuni soggetti poi ti diventano da bulimici ad anoressici. Il gioco della bulimia-anoressia è gravissimo, perché tu a un certo punto quando non riesci più a dimagrire e vai da un animale del genere che ti dice che puoi mangiare a volontà, certo che mangi a volontà, mangi a volontà, mangi a volontà, dopo un po' quell'alimentazione ti viene gli urti di vomito a seguirla e poi cosa fai? Se riesci una sola volta a metterti le dita in gola, lì è la fine, perché con quel processo comincia a passare dall'altro lato. Certo, invece diciamo che il programma di Vivere Snella è estremamente serio, perché spesso voi assistite anche persone che hanno dei gravi problemi di salute e quindi avete un quadro della loro anamnesi molto dettagliato, siete seguiti comunque da dei professionisti, ci sono dei medici all'interno del centro. 25 nutrizioniste che hanno fatto diversi master, chi in America, chi dal dottor Berrino, che è un famosissimo oncologo che se lo senti parlare, secondo me se va da quella bestia lo prende a testate. Il problema è che la gente poi nella sua, poverini, nella loro disperazione, che cosa fanno? Qualsiasi cosa pur di uscire da un problema. Spesso però dovrebbero fermarsi e capire, leggere recensioni, guardare altre cose, prima di buttarsi, perché la velona che andò a Canale 5, che doveva essere da lui aiutata, in realtà è stata umiliata in una maniera vergognosa. Adesso è arrivata che la devono lavare, talmente arrivata a over 200-260 kg, non si riesce più ad alzare. Quando io l'anno scorso feci reality le dissi ti curo gratis, però lei oramai era stata talmente umiliata che di ritornare davanti alle telecamere non se la sentiva. Ovvio che io purtroppo sono un direttore e se ti do tutta una cura così costosa, in quel momento potevo farlo perché avevo reality e l'azienda mi aveva detto che chi partecipa al reality la cura è gratis. Ma lei disse no. Perché? Perché lui che gioca sull'umiliazione, ti plagia talmente tanto, ti dice ma non ti vedi come fai schifo, che ti ha completamente ancora di più ammazzato e poi faresti qualsiasi cosa. Il mio messaggio è ragionate, perché chi viene da noi ha l'esatto contrario, viene esaltata, viene complimentata per ogni successo e vedi che vengono da sole in tv dal 2006 quasi. Ecco, infatti Giuseppina, la sua esperienza è stata più che positiva, già anche l'altra volta ce l'ha raccontata. Oggi a che punto siamo del suo percorso? Siamo al punto che ho raggiunto il mio obiettivo di perdere 10 kg. Ecco, diciamo che lei è alta, possiamo dirlo, 1,66, 63 anni, ha iniziato a accumulare un po' di peso. Perché? Perché prima di tutto la menopausa, poi sono un po' golosa e allora ho cominciato a accumulare peso da una quindicina d'anni a questa parte. Come ho detto l'altra volta, ne ho provate tante di diete, però niente, tiravo giù 2-3 kg e poi dopo le riprendevo. Appunto da quando frequento il vostro centro, veramente sono bella, tranquilla, rilassata e felicissima di aver raggiunto il mio... Sì, tanto guarda, non mi costa niente. Tra l'altro so che il matrimonio è un appuntamento importante a fine maggio. C'è l'obiettivo, esatto. Mi ero promessa di perdere, però come farò, come farò per fortuna. Quale metodica usi? Depressurizzazione? Esatto, la DEP e la CRIO, laser e DEP. Ricordiamo che Vivere Snella ha 16 metodologie che passano dalle alghe che arrivano direttamente dalla Bretagna, dove io ho fatto dimagrire persone malate tranquillamente rilassate nel lettino, alla DEP che è un trattamento a freddo che in mezz'ora, comunque andando a far lavorare la circolazione sanguigna, pensa che mezz'ora equivale a 5 linfodrenaggi. La CRIO o il laser sono due metodiche eccezionali perché sono localizzate e il rapporto qualità-prezzo di Vivere Snella è davvero... Se vai a considerare che scarichi dal 7,40, se vai a considerare che la nutrizionista è a carico nostro, quindi lo studio metabolico dei cibi molto spesso lo mettono nel pacchetto e quindi non viene pagato. Se vai a considerare che spesso abbiamo un fisioterapista che ti segue e un fisioterapista che costa poco a Milano, viaggia almeno dai 60 e 70 euro l'ora, da qualsiasi nutrizionista che vai a farti la classica dieta epocalorica spendi 150 euro e non hai quello che ti diamo noi perché la pelle, anche di una meravigliosa femminuccia come la sua, è tonica. Infatti... Quindi è quello il successo. Certo perché il rischio poi, lo diciamo sempre, che quando si perdono tanti chili il fisico appunto ha questo aspetto non così tonico. In realtà le metodologie che voi utilizzate nei centri consentono invece di mantenere quella tonicità che viene comunque perduta. Sì, se vai a vedere, adesso mandiamo in onda questo viso trattato con la radiofrequenza medicale, è una radio che è incredibile, arriva dalla Svizzera. Una seduta equivale a 8 di quelle normali, estetiche, e dà una rigenerazione pazzesca perché se guardate le foto davvero si vede nel collo una tensione, un miglioramento in tre sedute di una donna di oltre 76 anni. Il colore della pelle cambia perché prima il medico ti fa un peeling, ma questa radiofrequenza qui va a ricompattare, immaginatevi il collagene come se fosse un fusillo, invecchiando perde il tono, si affloscia, i fibroplasti purtroppo ahimè muoiono e quindi quelli che abbiamo dobbiamo tenerceli belli sani, tonici. La radiofrequenza ricompatta il fusillo. La stessa radiofrequenza noi la utilizziamo con i nostri fisioterapisti per tutto ciò che è il dolore, quindi la tecar, la radiofrequenza considerate che i calciatori la fanno due volte al giorno, quindi ha delle azioni talmente benefiche che vanno dal dolore, quindi agisce proprio su tutta la fascia dei nervi, dei tendini o quant'altro. Sul viso ovviamente ci vuole la radiofrequenza sia bipolare che monopolare che va a fare una rigenerazione, ma se vai a vedere i miei dimagrimenti nel sito non ce n'è uno, anche di persone davvero grandi, a cui la pelle non ha dato un risultato incredibile. Certo, questo è un altro valore aggiunto, ci manca giusto un minuto Lorena per accenare a due cose. Una settimana importante è quella verso maggio, adesso non diciamo esattamente quando la data, però che cosa succederà? Diciamo o la prima o la seconda settimana di maggio, sarà un sabato, faremo un evento eccezionale a Milano, avrete modo di divertirvi, ci sarà il catering, ci saranno ovviamente delle sedute in omaggio, sarà scherzoso perché noi festeggiamo 20 anni, 20 anni dove addirittura ci vedrete su Mediaset perché adesso parte anche l'obiettivo del franchising e in questo evento ci sarà Marsella che fa la mental coach e quindi vi fa capire che io sono partita da zero, non potevo permettermi un caffè e oggi mi dicono che ho costruito un impero, visto che siamo ormai a sei centri e a breve c'è il settimo che aprirà a brevissimo. L'evento sarà bello perché ci saranno i fisioterapisti, visto che la fisioterapia deve partire e che potranno trattarvi lì in questo location che sceglieremo, ci saranno diversi personaggi dello spettacolo e quindi sarà un evento molto molto bello. Un sabato pomeriggio partirà penso sabato sera fino a tarda serata con musica, catering, insomma voglio un evento forte, forte, forte. Poi c'è il tuo libro che siamo grassi nel cervello, anche qua due parole perché siamo proprio in chiusura. Due parole, secondo me questo libro dovete prenderlo, ma non tanto perché costa meno di una colazione, è stato messo a questo prezzo perché è divulgativo, racconta la storia di un ragazzo invalido al 100%. Luca Cuscito non prende più la pensione di invalidità, c'è il tesserino rilasciato dalla regione Lombardia, pesava 120 kg su un'altezza di 1,45 m, 6 ospedali non ce l'hanno fatta, ce l'ha fatta a Marseglia, con il metodo, con gli infrarossi ma soprattutto con lo studio metabolico dei cibi. E lì nel libro poi ci sono delle ricette light e c'è una mini spiegazione di cos'è lo studio metabolico dei cibi. E' mini perché giustamente siamo talmente gelosi che non andiamo a dare il nostro patrimonio, il nostro know out a chiunque. Giuseppina, a lei la chiusura, due secondi, soddisfatta. Il suo percorso non è terminato e noi la vogliamo rivedere qui nei nostri studi, nei nostri centri, anche perché vogliamo sapere come è andato il matrimonio e soprattutto vogliamo vederla con quale abito ha partecipato al matrimonio della figlia. Ecco, questo proprio mi ha dato lo spunto per frequentare il vostro centro, mi sento benissimo, sono felicissima finalmente. Lo consiglieresti? Certo, lo sto consigliando un po' a tutti, stanno aspettando il vostro centro a Torino, pensa un po'. Va bene, digli a Torino di procurarci la palestra che poi noi arriviamo. Guarda, non si preoccupi. Bene, grazie allora a Giuseppina, la nostra testimonial di questa sera e come sempre grazie a Lorena Marsiglia. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.